Le tue fotografie sono sfocate? Fa niente, non me ne importa nulla. Ecco le rivelazioni shock che mi sono state fatte da uno dei miei clienti e i motivi per cui fare fotografie a fuoco potrebbe non essere più una skill così indispensabile per noi professionisti del settore fotografi e videomaker. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo appunto di fotografia e videomaking e oggi vi parlo di un'esperienza che ho avuto con un cliente che mi ha fatto vacillare, ha fatto vacillare le mie certezze in particolare riguardo all'importanza dell'autofocus. Nel caso foste nuovi sul mio canale vi ricordo che ho già pubblicato diversi video su questo argomento in particolare sull'autofocus e di come funziona sulla maggior parte delle fotocamere in commercio sia reflex sia mirrorless. Vi lascio qualcosa linkato in card e andateveli a recuperare. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto perché dalle statistiche mi risulta che un buon 40% di voi segue tutti i miei contenuti ma non si è ancora iscritto, quindi vi invito a farlo. Bene ma vado subito al nocciolo della questione, le fotografie e le riprese video se è per quello perché poi è la stessa cosa, devono essere perfettamente a fuoco? È importante che siano a fuoco o è solo una fisima di noi operatori avere la sharpness nel punto giusto, il punto di messa a fuoco nel punto giusto? È una cosa che serve solamente a noi perché così possiamo darci delle gran pacche sulle spalle da soli e dirci bravo anche oggi hai comprato la macchina fotografica che ti ha permesso di mettere a fuoco nel punto giusto? Oppure è una cosa che interessa anche ai nostri clienti finali? E io parlo di clienti ma nel caso siamo professionisti parliamo di clienti ma nel caso fossimo amatori o nel caso fossimo semplicemente che ne so papà di famiglia che vogliono fare le foto a un battesimo si parla semplicemente delle persone che riceveranno le foto, quindi gli utilizzatori finali delle immagini che noi produciamo sono veramente interessati ad avere il punto di messa a fuoco corretto oppure non ne capiscono assolutamente nulla. Per rispondere a questa domanda vado a farvi l'esempio di un lavoro che mi è capitato di recente purtroppo non posso farvi vedere le immagini perché non ho avuto il consenso dal cliente ed essendo un cliente grosso non posso e non voglio neanche forzargli la mano per chiedergli delle liberatorie per dei partner dell'azienda che poi magari non hanno piacere a essere mostrati in un contesto come questo per cui prendete per buone le mie parole. Siamo in un contesto di studio quindi più o meno come quello che vedete adesso. Ok non c'era la luce blu per le foto corporate queste cose non si fanno. Quello che succede è che realizziamo una serie di scatti e per l'occasione io sto usando due macchine diverse ma in realtà tre però facciamo finta che fossero due. Sto utilizzando una reflex e una mirrorless. Ora devo dire a onor del vero con tutti i contenuti che ho fatto contro le politiche di marketing delle mirrorless devo dire che scattando con la mirrorless avevo il 100 per cento di scatti a fuoco mentre con la reflex avevo solamente il 90 per cento di scatti a fuoco perché succede perché il sistema di messa a fuoco delle mirrorless è migliore di quello delle reflex non c'è niente da fare. Quindi io sono serenissimo nel 98 per cento dei casi perché di solito faccio fotografia statica mi capita ogni tanto di fotografare persone e mi capita ogni tanto che queste persone si muovano non stiano mai ferme. Ora con una mirrorless la macchina si prende cura di tenere a fuoco sempre l'occhio io non devo fare più niente basta che componga e scatti. Con una reflex non è altrettanto vero lì ci vuole un po' più di perizia quindi riesco a portarmi a casa il 90 per cento delle immagini a fuoco ma ce n'è un 10 per cento dove un po' sbaglio io un po' le persone che sto fotografando non ne vogliono sapere di stare ferme avete presente il nervoso quello che fa ma sto venendo bene ma come mi metto mi metto così mi metto ok tu vorresti soltanto scuoterlo e dirgli stai fermo. Che cosa succede però? Al termine del lavoro io torno a casa e dico va bene abbiamo 10 foto fatte con la reflex 20 foto fatte con la mirrorless questa differenza era dovuta al fatto che ho ottiche diverse quindi ho usato certe ottiche sulla reflex certe altre ottiche sulla mirrorless quindi non è che le ho fatte doppie per capriccio utilizzavo un set di lenti da una parte un altro set da un'altra parte quindi ho fatto due cose diverse nel momento della consegna io consegno le fotografie consegno tutte le foto che a me sembrano buone quindi vado ovviamente a togliere quelle con gli occhi chiusi robe strane mani davanti tutto quello che non è utilizzabile lo vado a togliere ci sono alcune immagini su cui ho un fortissimo dubbio perché perché sono micromosse sono lievissimamente fuori fuoco questo può dipendere dal punto di messa a fuoco che non era perfetto può dipendere dal fatto che proprio in quel momento la persona stava facendo così perché c'è la gente che si muove che non riesce a stare ferma mentre gli fai una foto è pieno di gente che che non riesce a stare ferma mentre gli fai una foto fatto sta che alcune immagini non sono venute perfettamente a fuoco non erano a fuoco stavamo scattando con luce continua quindi non avevo il flash che mi cristallizzava perfettamente il movimento e questo significa che stavo scattando con un diaframma più ampio per far entrare più luce dato che non avevo la potenza di emissione del flash che avrei voluto avere che cosa succede sostanzialmente io mando pacchetto di foto al mio cliente dove ci sono 98 per cento di foto perfette e un 2 per cento di foto ma veramente poche sono state tre avrò mandato un pacchetto di 40 foto su cui ce ne erano tre con questo lieve fuori fuoco questo lieve sfocato avete capito quali foto sono state scelte il cliente è riuscito con la precisione di un cecchino a beccare esattamente le foto affette da questo problema esattamente quelle ora potremmo discutere a lungo delle cause e io ve ne dico due in particolare secondo me un cliente è portato a fare questo tipo di scelta completamente sbagliata per due motivi il primo motivo è che non pensa minimamente all'aspetto tecnico quindi non sta guardando che la foto sia a fuoco corretta non sta minimamente guardando queste cose sta solo guardando com'è la sua faccia e cioè nel senso che espressione ha come è venuto o venuta con che spontaneità è venuto fuori il ritratto sta guardando solo quella roba lì e il fatto che se ne freghi completamente dell'aspetto tecnico lo porta a valutare a tenere in maggiore considerazione una fotografia che magari è tecnicamente sbagliata o parzialmente sbagliata perché non erano disastrose le foto semplicemente non erano super sharp come tutte le altre il secondo motivo che io riconosco è il tipo di visione che hanno i clienti perché nel momento in cui io altri professionisti ho conosciuto fior di professionisti più bravi di me con una strumentazione migliore della mia che lavorano su dei monitor migliori dei miei io lavoro su un iMac alla fine quindi ho un 27 pollici di Apple e lavoro su quello non è un monitor di altissima risoluzione non è un monitor calibrato non è un monitor di pregio è semplicemente un iMac all in one quindi io lavoro serenamente così è tutta la vita che lavoro così ho visto dei professionisti lavorare con dei monitor da 6.000 euro sullo schermo francamente bello io non credo che farò mai un investimento del genere perché non mi serve non mi dà nessun valore aggiunto non vado a quel livello di precisione con con il dettaglio con il colore con la luminosità io sono più che soddisfatto con quello che ho i nostri clienti non hanno neanche l'iMac i nostri clienti la guardano qua la foto che noi gli mandiamo noi gli mandiamo un we transfer con le immagini in alta risoluzione loro le scaricano sul telefono le guardano dal telefono e se le immaginano sul telefono loro stanno pensando come viene fuori su instagram quella foto lì al massimo stanno pensando come viene fuori su linkedin come come fotoprofilo è quello che stanno pensando e hanno ragione a quel punto perché un lievissimo fuori fuoco un lievissimo micromosso su instagram su linkedin non si vede non si vede più niente quindi da un lato non capiscono che esiste una precisione tecnica non ne hanno la minima idea non hanno la perizia per rendersene conto d'altra parte le fruiscono e si aspettano che vengano fruite solo su uno schermo piccolo così quindi facciamo due più due ci diciamo alla fine hanno anche ragione loro cioè stanno facendo una scelta tecnicamente sbagliata però il risultato sarà ineccepibile perché nessuno sarà in grado di rendersi conto che c'era un micromosso quindi alla fine pur nell'errore i clienti hanno pure ragione c'è però una clausola che devo fare e questo devo dire mi sono imbattuto in questo fenomeno solamente quando stavo fotografando delle donne perché gli uomini se ne fregano sono più rozzi normalmente quando io sono abituato che quando fotografo un uomo gli faccio tre foto dopodiché si rompe le scatole mi dice ma sì una delle tre va bene di sicuro con le donne è tutta un'altra cosa e non è tutta colpa loro ovviamente faccio riferimento in particolare a un testo come questo che è beauty mania vi consiglio di andarvelo a recuperare lo trovate tranquillamente su amazon se siete interessati esistono dei particolari ambiti in cui è possibilissimo che le donne facciano body check molto più spesso di noi uomini e quello della fotografia è proprio uno di questi ovviamente una donna siccome c'è così tanta attenzione sul fisico sull'aspetto una donna è molto più portata a domandarsi ma sto venendo bene in foto non posso venire male poi quella foto rimane poi mi parlano tutti dietro se sono venuta male diranno che sono grassa se sono ingrassata di mezzo etto diranno che sono anoressica se ho perso mezzo etto la donna è molto più portata a fare questi ragionamenti mentre non ce ne frega un tubo quindi questa cosa io la noto ed è vera quando fotografi una donna sei molto più soggetto a lavorare con una persona che è più ansiosa perché ha più paura del risultato ha paura di non venire bene a differenza dell'uomo che già non gliene frega niente della foto in sé perché l'uomo non la guarderà neanche mai più la sbatterà lì e non gliene frega niente in più l'uomo non si sente giudicato per il suo aspetto a differenza della donna quindi proprio non gliene frega niente con la donna è diverso per cui ho riscontrato che spesso ma veramente spesso le donne tendono a scegliere col contagocce proprio tendono a scegliere la foto sfocata perché non si vede la texture della carnagione non si vede la texture della pelle normalmente sapete che quando facciamo un ritratto giusto anche adesso anche adesso che voi state guardando questa ripresa se la state guardando su un televisore 4k questa è una ripresa io sto girando in 4k se voi guardate la messa a fuoco sul mio occhio perché fotocamera mirrorless mette a fuoco correttamente sull'occhio voi vedete la texture della mia pelle del mio incarnato la vedete bene proprio è materica la vedete anche perché io non ho una bella pelle quindi non sono liscio non sono di porcellana quindi la vedete proprio una donna questa cosa di solito non la vuole vedere e quindi se c'è una foto dove è perfettamente a fuoco questa cosa si percepisce meglio tenderà a scartarla e tenderà a scegliere la foto dove c'è un micromosso perché dove c'è un micromosso questo effetto viene in parte mascherato in parte coperto e quindi siamo costantemente a rischio che le nostre clienti ma anche le nostre madri sorelle fidanzate amiche chiunque siamo sempre a rischio che ci scelgano proprio la foto sfocata per questi motivi quindi un po perché non non se ne rendono conto un po perché non gliene frega niente un po anche perché vogliono proprio quella roba lì vogliono una foto dove non si veda bene la texture tanto l'avrebbero rimossa col filtro di instagram alla prima occasione quindi metterla prima toglierla dopo non cambiava assolutamente niente avrebbero comunque messo il filtrone di instagram per brasare tutto e quindi se già vedono che è parzialmente brasata la preferiscono solo a questo punto dobbiamo guardarci in faccia e dirci anche ma noi noi fotografi siamo contenti che vadano in giro delle nostre foto con questi errorucci chiamiamoli così perché un conto è sono un amatore sto facendo un favore a una persona gli do una foto al limite posso dirgli non mi citare non scrivere niente soprattutto non scrivere grazie per le bellissime foto ragazzi ricordatevi sempre quando qualcuno vi scrive sui social grazie delle bellissime foto ditegli di toglierlo dite di togliere quella schifezza perché quello è il marchio di quando uno non vi ha pagato quindi io lo so non sempre riusciamo a farci pagare a volte regaliamo il nostro lavoro in cambio di visibilità in cambio di caramelle in cambio di che cavolo ne so fate levare quella schifezza fate levare quella frase disgustosa perché anche se non vi hanno pagato anche se gliele avete regalate sbandierarlo ai 4 20 in questo modo non fa bene a voi non fa bene al settore quindi fategli togliere quella cavolo di frase diteglielo prima dite io io te le regalo però non scrivere quella porcata quella porcata la scrivi al bambino di cinque anni che ti ha fatto le foto col telefono a me quella roba lì non la mettere piuttosto non mettere niente a maggior ragione se siano stati pagati io sono stato pagato il mio cliente non mi cita ha diritto a non citarmi mi ha già pagato a me non me ne frega niente se mi voglio citare mi cito da solo dico io questo lavoro l'ho fatto io faccio vedere ti mando un portfolio un pdf qualcosa non pretendo che lo faccia il mio cliente quando un cliente ti fa pubblicità e dice grazie per le bellissime foto quella è proprio la frase è come scrivere questo qui è un pirla e mi ha fatto le foto gratis e io non l'ho pagato quindi fatela togliere quella roba lì fatela togliere non non accettate di venire ringraziati con quella frase piuttosto è meglio che non veniate neanche citati per quanto mi riguarda tornando al nocciolo però noi siamo contenti che ci siano in giro delle foto con il nostro nome magari con la nostra filigrana io sono contrario alla filigrana vi lascio allegato un video in cui parlo proprio di questo sono contrarissimo alla filigrana per una serie di ragioni tutte spiegate nel video in ogni caso diciamo che se ci sono in giro delle nostre foto che abbiamo fatto noi con dei difetti tecnici può essere una cosa che magari non ci danneggia subito però magari dopo 8 anni noi siamo migliorati e c'è ancora una nostra foto che gira magari con tanto di tag e con grazie per le bellissime foto che gira sui social può essere spiacevole a questo punto come ci difendiamo da questa cosa possiamo ovviamente chiedere di non essere creditati e questo è facilissimo cioè per il cliente chiunque gli sia che sia un amico un parente una super multinazionale per il cliente la cosa più facile del mondo non creditare il fotografo spesso lo fanno senza neanche bisogno dell'imbeccata quindi basta di io non citarmi non dire niente pubblica e basta è easy non non verremo citati non verremo creditati e va bene così esistono dei casi come quello mio per esempio in cui ero tentato di cancellarle quelle foto perché all'atto della della selezione ho proprio detto ma io cosa faccio gli mando anche questa che al limite capito non è sbagliata cioè non è non è una foto così non è sbagliatissima non è non è bruttissima da buttare via ha un errorino tecnico che fosse mio o che fosse della persona ritratta poco importa fatto sta che era una foto un po in bilico io non l'avrei mai scelta alla fine visto il tipo di cliente visto il rapporto che c'è mi sono proprio detto gliela do gliele do tutte faccio scegliere alle tranne quelle palesemente da buttare faccio scegliere a lui e vediamo che cosa ne viene fuori ne viene fuori che erano più persone ne viene fuori che molte di queste persone hanno scelto le foto sfocate per tutti i motivi che ci siamo già detti a questo punto come possiamo tutelarci secondo me l'unico modo che ci mette veramente al riparo è non dargliele non dargli le foto sfocate o le foto con micro mosso o le foto che noi reputiamo disdicevoli per noi per la nostra professione per il nostro portfolio se ci sono delle immagini di cui crediamo che avremo modo di vergognarci di lì a poco non le consegniamo al cliente ovviamente dipende dal tipo di rapporto e da come è andato il lavoro perché se abbiamo fatto cinque foto e quattro sono sfocate non possiamo dargliene una sola quindi a quel punto gliele dobbiamo dare per forza però in un ambito di professionalità dove comunque dici vabbè però ti dovevo fare una foto una di numero te ne do comunque 19 cioè ne ho tolta una che era sfocata quello va bene è assolutamente accettabile a quel punto il cliente ne sceglierà un'altra perché i clienti non hanno in mente una cosa precisa non si aspettano una cosa precisa sceglieranno quella in cui si piacciono di più se noi ne togliamo una comunque sceglieranno quella in cui si piacciono di più di quelle che sono rimaste non avranno la minima cognizione che ne è stata tolta una in cui magari si piacevano di più seppur sbagliata quindi secondo me è un buon esercizio innanzitutto consegnarle tutte giuste è un buon esercizio andare a eliminare quelle che non vogliamo consegnare quelle sbagliate quelle dove c'è qualcosa che non vogliamo che il cliente veda perché io non voglio il mio cliente veda che c'è un errorino tecnico non voglio che lo veda e non consegnare quelle che potrebbero metterci in imbarazzo un domani quelle per cui qualcuno potrebbe dire però lì avevi sbagliato io quelle le eliminerei tutte sempre quindi dipende ovviamente dal tipo di rapporto che c'è col cliente in questo caso io le ho consegnate molte 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 volte non le consegno a questo punto fatemi sapere in un commento voi cosa ne pensate siete mai trovati in casi analoghi al mio che cosa avete fatto avete consegnato tutto comprese quelle completamente sbagliate fuori fuoco con gli occhi chiusi e la bocca storta oppure avete fatto una mega selezione e gliene avete consegnate pochissime ma buone fatemelo sapere in un commento vi ricordo anche di iscrivervi al canale perché spesso e volentieri io rispondo con dei video verticali con degli shorts brevi ai commenti che mi lasciate qui sotto per cui vi aspetto scrivetemi se avete dubbi curiosità o qualsiasi altra cosa è stato un piacere passare un po del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video iscriviti al canale